E ora sentiremo, come abbiamo sempre sentito in questi giorni, il boato per Brian Giberti. Brian Giberti che davvero è stato bravissimo, bisogna dire, perché era settimo nello show programma e poi ha addirittura ottenuto il primo libero ieri. Ed è dunque salito sul podio ottenendo l'argento. La musica è vero, è vero. La musica 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 è vero. Brian Gibert è stato partecipato agli europei, quindi pensate, poi tre volte campione europeo, davvero è amato e considerato proprio il simbolo del patinato. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!